TRANSIZIONE POSSIBILITÀ TRANSIZIONE POSSIBILITÀ Ciao Peter, allora sei pronto? Sì, sono pronto TRANSIZIONE POSSIBILITÀ Allora Peter, partiamo, mercoledì 10 dicembre 2008 TRANSIZIONE POSSIBILITÀ E dov'è? In via San Bartolomeo 40 a Vinò Boh, praticamente è sotto il castello della Rovere Sì, da quelle parti Ma che ora è? TRANSIZIONE POSSIBILITÀ Ah già, la presentazione dell'opportunitario TRANSIZIONE POSSIBILITÀ Non ho nulla da concordare Puntini puntini L'unica cosa, una precisazione Sei molto preparato, ma tu ci sei Eh già, se no chi ti fa lo show me? Bella storia, Mimmo E se no chi ti fa lo show me? No, non ho nulla da concordare Ma che sicuro è una cosa E non ho nulla da cucina Mimmo